Il bis pensiero lo vediamo anche nel regime totalitario di Putin, laddove l'invasione dell'Ucraina è stata per mesi raccontata come una liberazione dai nazisti, una denazificazione, volta a liberare il popolo russo oppresso. Ma quello stesso popolo è stato bombardato e milioni di civili, quegli stessi civili da liberare, sono rimasti senza vita, senza casa o senza famiglia. Difficilmente la liberazione dai nazisti, A, può essere raggiunta massacrando coloro che si vuol liberare dai nazisti, non A. Ma anche qui in democrazia il bis pensiero non manca. Abbiamo visto in tv e in piazza persone politici marciare per la pace, chiedendo all'Ucraina di arrendersi, chinando la testa di fronte all'atto genocida di Putin. La pace non coesiste con la resa incondizionata dell'aggredito. Secondo questa visione, il motto del grande fratello, la guerra è pace, sarebbe assolutamente corretto. Se tuo aggressore fai la guerra, noi faremo la pace chiedendo la resa dell'aggredito. Insomma, puro bis pensiero.